Buongiorno, buon mercoledì 29 maggio, ben trovati anche oggi con questo primo appuntamento con informazione di Molise TV. Dunque iniziamo la nostra rassegna stampa, il quotidiano del Molise, Isernia, Brasiello, Incassa e Ringrazia, ma si parla già di riconteggio. Da Pollonio i Caranci puntano su 310 schede annullate, il nuovo sindaco, i cittadini non hanno bisogno di ricorsi. Ancora Isernia, giunta, i papabili sono nove, sperano i primi eletti. La doppia preferenza fa scuola Larino, Dermes è la più votata, rappresentanza di genere. La sorpresa sorbo già al lavoro, Pietracupa pronto a collaborare, naturalmente parliamo di Venafro, ieri scambio di saluti tra il primo cittadino e il commissario Ferri. Sanità, spettanze fisiomediche, l'Asdrem Tuona, già pagati 500 mila euro. Uso dei fondi europei, patto Regione Finanza, è stato firmato ieri pomeriggio nella sede di Via Genova, la nuova alleanza tra il presidente della regione Molise e Guardia di Finanza per la maggiore trasparenza nell'uso dei fondi europei. Andiamo allo sport del quotidiano Lega Pro tra Capone e Di Palma, spunta un partner, si tratta di Nick Giancola. Serie D, Isernia, Sammi e Taccapo, accordo in piedi. Passiamo adesso alle pagine interne. Interamente dedicate ai risultati delle comunali del capologo Pentro, Brasiello da Pollonio, la sfida decisa alle ultime schede. Poco più di mille voti hanno diviso due aspiranti sindaci di Isernia, ma alla fine con la vittoria del candidato del centro-sinistra si è imposto il modello frattura. Ricapitolando la somma dei voti, Luigi Brasiello, 6.904, da Pollonio 5.867, Caranci 889. Spostiamoci a primo piano l'ombra del ricorso sullo voto di Isernia, così che apre quest'oggi il quotidiano. Il centro-destra conta di recuperare il gap da Pollonio, decideranno i partiti. Nel day after il sindaco Brasiello promette subito a lavoro la giunta entro pochi giorni. A Venafro la prima di Sorbo a Palazzo Cimorelli. Ieri il passaggio di consegne con la commissaria Ferri. Pietracopa intanto lancia la proposta. Rinunci all'indennità. Ancora Isernia. Fuori il senatore D'Ambrosio. Boom di consensi per Roberto Di Baggio. Rieletti, D'Achille, Sposato, Fantozzi e Capone. Ancora Venafro, Flop di Valente. L'architetto arriva ultimo. Bene gli uomini di Scarabeo. Alfredo Ricci lascia Patriciello e fa il botto. Campobasso edilizia residenziale. Un disegno di legge per tagliare i prezzi delle case. A Palazzo Moffa slitta ancora il quinto assessore. In aula e scontro tra Totaro e Di Pietro Junior. All'interno lo speciale naturalmente con tutte le preferenze. Risultati comune per comune. Conti della regione. La maggioranza prepara una commissione di inchiesta. Mentre la ragioneria dello Stato è all'opera. Presto un dossier su bilancio e personale. Lo sport Lupi e Capone propone un partner a Di Palma. L'italo-canadese John Cola. Serie D Isernia ha firmato il verbale per l'ingresso dei fratelli Pagano. Spostiamoci alle pagine interne. Sull'esito del voto spunta l'ombra dei ricorsi Bipartisa. Nel centro-destra chiede il riconteggio delle nulle per arrivare al ballottaggio. Naturalmente parliamo delle comunali di Isernia. Caranci manca il seggio in consiglio e medita di rivolgersi alla magistratura. Chi resta fuori non ce la fa Alfredo D'Ambrosio, flop di Lombardozzi e di Antonio Potena. Pochi voti anche per l'assessore Pallante. La nuova assise e tante le new entry accanto alle riconferme dei big. Tornano Fantozzi, D'Achille, Sposato, Cutone e Capone. Il segretario del PD Danilo Leva ha premiato la proposta della nostra coalizione. Brasiello Isernia cambierà a marcia. Il primo cittadino detta le priorità subito a lavoro per occuparmi di economia e giovani. Sulla giunta non ci ho pensato ma deve essere fatta in breve tempo per iniziare ad amministrare. Da Pollonio deludenti alcune liste. Bene, la nostra civica. Il generale pensa al futuro. La mia sarà un'opposizione costruttiva. I più graditi, Roberto Di Baggio e Raimondo Fabrizio, sbancano Palazzo San Francesco. Bene, a questo punto guardiamo insieme il giornale telematico in forma molise. In primo piano, istituzione e commissione d'indagine per verificare lo stato dei conti pubblici lasciato in eredità dal centro-destra. Cavaliere, che fine hanno fatto le vecchie battaglie della sinistra sui tagli e costi della politica? I dipendenti della fisiomedica chiedono di incontrare frattura. Contributi per il pagamento dei canoni di locazione. Cosa succede per il 2012? Lettera aperta di un lettore. Amministrative 2013, risultati nei comuni e in provincia di Campobasso. Bene, spostiamoci adesso al tempo. In premissa la pagina dedicata al Molise. Commissione d'inchiesta sulle spese. La maggioranza tira dritto sulla delibera per la nomina del quinto assessore. La Corte Costituzionale rivela anomalie nel rendiconto generale del 2012. Campobasso nasce all'osservatorio contro le dipendenze. A Termoli il comune cerca architetti per la nuova variante al PRG. Campobasso dai residui di bilancio, 800 borse di studio. Campomarino la capitaneria sequestra sette lidi abusivi. Sette persone sono state denunciate a piede libero per reati edilizi. Bene, a questo punto spostiamoci ai giornali nazionali. Il tempo. Grillo perde le elezioni. Colpa dell'Italia peggiore. Il leader del Movimento 5 Stelle non accetta la sconfitta dei suoi candidati. PD Romano con 130 mila voti in meno. Dura sfida Marino Alemanno. La più votata nella capitale con Estella Marino e Azzuni. Belviso guida la rivincita delle donne. Attacco all'austerity dalla Corte dei Conti è costata 230 miliardi. Tre omicidi il giorno delle sparatorie e quello di ieri a Roma. Torna l'incubo sicurezza. C'è anche un ferito grave. Marrazzo in aula. Vi racconto cosa ha distrutto la mia vita. Questa è la sua testimonianza al processo. De Rossi e la Roma è divorzio. Il centrocampista verso il Chelsea e Totti al Real avrei vinto tutto. Renzi e i grillini. Ora collaborate così che apre il principale quotidiano di Roma. Dunque il messaggero. Intervista al sindaco. Servono riforme e sempre presidenzialismo. Semipresidenzialismo. Il governo non tiri a campare. Grillo il paese peggiore con PDL e PD. Rivolta della base. Marino Alemanno caccia agli astenuti. Femminicidi sì della Camera alla Convenzione contro la violenza sulle donne. Via libera all'unanimità alla Camera alla Convenzione di Istanbul. Naturalmente ora l'istanza deve passare al Senato. Italia fuori pericolo ma l'Unione Europea chiede meno tasse sul lavoro. Oggi verrà chiusa la procedura di infrazione dall'Europa. A raccomandazioni alle banche. E il messaggero. Nel messaggero c'è una foto dedicata purtroppo ai fatti di sangue accaduti ieri a Roma. Sangue a Roma. Tre omicidi in un giorno. Esecuzioni in strada in luoghi diversi. Escalation. Criminalità. L'intervista a Bobby Solo. Io e Little Tony. Amici rivali. Nel nome di Elvis. Per lo sport del messaggero. Roma Allegri. Atto finale. Il tecnico pronto a dire sì. Spostiamoci adesso alla stampa. L'Europa dà i compiti all'Italia. Rivedere il catastro. Più asili a tempo pieno. Mercato del lavoro flessibile. Ira Grillo. Il voto del paese peggiore. Riforme in salita. Il confronto PD-PDL. La mamma disperata. Perché tuo figlio ha ucciso Fabiana? Anche a idem ai funerali della sedicenne. Il ministro delle pari opportunità. Corigliano Calabro. La telefonata dopo il delitto. Mosca avverte l'Unione Europea. Forniremo ancora i missili a Damasco. Bonino. Sbagliato. Armare i ribelli. Siria sul Quirincio. Un silenzio lungo 50 giorni. I verbali bel sito. Ecco gli affari della Lega. Dal cerchio magico a Maroni. Le rivelazioni dell'ex tesoriere IPM dell'antimafia. Sapevamo in anticipo delle inchieste su di noi. Roma. Tre omicidi in un giorno. Ondata di criminalità senza precedenti. I cinesi volanti alla Biennale di Venezia. Come possiamo anche vedere dalla foto. Questa è la performance dell'artista cinese Li Wei. alla Biennale di Venezia. Visita in anteprima della rassegna dell'arte che si apre sabato con il titolo Il Palazzo Enciclopedico. Spostiamoci adesso all'informazione economica. Dunque il sole 24 ore. Borse e bond in rally globale. Tassi BTP ai minimi in asta. I rendimenti a due anni cadono all'1,11%. Bene anche i CTZ. I dati economici USA danno nuovo sostegno al rialzo dei mercati. Piazza Affari più 2,1%. La migliore in Europa. Due opzioni allo studio per il commissario Ilva. Governo diviso sulle soluzioni per evitare il rischio blocco. Italia promossa con paletti. Meno spese e burocrazia. Tasse sul lavoro da ridurre. Saccomanni ora più investimenti. Corte dei conti. Persi 230 miliardi di PIL. Oggi Bruxelles decide l'uscita dell'infrazione. L'inchiesta agli oscuri ingredienti di BMS. E per il panorama del sole. Grillo attacca chi ha votato il PD e il PDL. Condanna il paese a una via senza ritorno. L'osservatorio politico declino a 5 stelle presto per dirlo. Paradossi della ricerca. Premiati gli scienziati italiani. Ma i fondi sono francesi. Bene, come sempre chiudiamo la nostra rassegna stampa con l'informazione sportiva. Il Corriere dello Sport parla a Seedorf. Milan mio il modello è la Juve. Il nostro inviato ha incontrato a Rio il favorito per la panchina rosso-nera. Ma io penso solo al Botafo. Però studia già da tecnico. Conte vincerà ancora per due anni. Poi dà appuntamento qui o a Milano. Allegri alla Roma tutto in 48 ore. Totti all'estero. Tanti mi vogliono. Neymar. Io e Messi. Intervista esclusiva al nuovo re brasiliano che il Barca è riuscito a portare in Europa. Ho scelto Barcellona con il cuore. Avrei potuto guadagnare meglio. Lei è un calciatore straordinario. Giocare insieme con lui è il massimo. Il mio sogno? Vincere il Mondiale. Napoli al piano di Benitez. Già stabilite le strategie. Inter Morati ha incontrato gli indonesiani. Nuovi capitali in arrivo nel club. Serie B tra Empoli e Livorno. Derby da oggi il primo spareggio. Ciclismo. È nato il Mondiale di Firenze. e Ballerini presentata la settimana iridata di settembre. Bene, con questo è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata e vi ricordo l'appuntamento con la nostra informazione come sempre alle 13.50. Arrivederci. Il meteo è offerto da L'estate è alle porte e la voglia di vacanze inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013 visita il nostro sito internet o vieni a trovarci in via Zurlo 5 a Campobasso. Previsioni del tempo per mercoledì 29 maggio. Aumento della nuvolosità con isolati piovaschi diurni sulla regione. Temperature in rialzo nei massimi. Venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali con mari tendenti a mossi o molto mossi. Le temperature Campobasso minima 8, massima 17 gradi. Isernia minima 7, massima 16. Termoli minima 15, massima 22 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. L'estate è alle porte e la voglia di vacanze inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013 visita il nostro sito internet o vieni a trovarci in via Zurlo 5 a Campobasso. Grazie a tutti.